metti la sopra metti nel dupo batman vedo anche questa allora grazie a tutti di essere venuti oggi al medio cominciamo male c'è tutto c'è tutto c'ho due sale è andata bene due sale due furgoni tre furgoni abbiamo portato praticamente il mondo questa sala che vedete qua siamo con il big marcello di no così vicino proprio male prende anche il grande marcellone abbiamo spettinato sia gratta superato la nata che pure il tatuagione vabbè vabbè che dobbiamo fare allora abbiamo fatto insieme questa joint venture come direbbero alcuni dove grazie a veramente al grande marcello abbiamo voluto dare un servizio ancora più importante che è quello che crediamo che sia vitale per anche ciò che riguarda noi come sai sicuramente nasciamo per la stereofonia per i due canali però abbiamo approcciato il mondo dell'audio video trattiamo tanti brand di audio video che abbiamo portato in esposizione sono brand che trattiamo anche in comune con marcello e cerchiamo di fare forza assieme in modo tale che riusciamo a dare un servizio ancora più completo all'utente che che è in me capita nelle mie grinfie senti invece a lei oltre qui all'esposizione staglia di tantissimi prodotti vedo veramente tanti prodotti vedo focal per esempio guarda che belli nuovi euro questi che è l'evo 150 levo 75 mega novità ecco anche qui dove abbiamo un po di audio video non abbiamo lasciato in disparte il due canali anche se lo abbiamo preso in maniera sfiziosa perché questi sono prodotti che gestiscono anche la hdmi seppur un due canali al 2.0 quindi si può fare un sistema stereo ma che cosa cosa abbastanza rara in effetti è giusto giusto sì sì però ecco da la possibilità di avere un amplificatore che si monta i moduli apex come moduli finali quindi parliamo di prodotti che suscitano molto molto interesse nell'audio e poi anche la possibilità di gestire tra virgolette il video no anche se senza un effetto un theater però ci posso appunto collegare una smart tv piuttosto che una proiezione avere comunque un audio di sempre di buona qualità e abbiamo portato appunto diffusori tipo per esempio la serie leggende tipo il caudio che è un diffusore che si presta bene allo stereo all'audio video farmi una linea molto completa abbiamo portato appunto focale come hai fatto vedere tu i sub della gl audio che sono meravigliosi anch'essi in doppia configurazione quindi stereo e multicanale abbiamo portato delle dell'ecolosità dell'ecolosità e poi ci siamo io e marcellino ci venite a trovare ci vediamo insieme qualcosa ne chiacchieriamo c'è anche il mitico andrea che la nostra ha detto flanagan per gli amici è la nostra new entry lui è quello che praticamente si è messo una placca di titanio sulle spalle perché ogni volta che lo vedo alla canna facciolo belle pari e ma anche al televisore che arriva stanotte arriva strana sia fabio mazzurana che ha preso un furgone da milano e sta avvenendo giù a roma sono le un bel cento pollici le 18 e 12 minuti visto che il corriere ha fatto diciamo bellissimo monitor lcd bravia sony da cento pollici due metri e venti di base tanta roba c tanto non piove quindi la strada sarà tranquilla è leggero un'altra sala sia dopo di te io vado io vado io ho capito telecamera che facciamo che l'ultimo che arriva paga ecco questa è l'altra sala stiamo preparando anche qui un video dove così intratteniamo è il venerdì e gesto senza voce intratteniamo chi ci verrà a trovare si prevedono file si prevedono file e qua ci sono un gruppo di bei ragazzi con un po di prodotti ci stiamo ancora un po sistemando qui siamo un po più proprio nel nell'alta fedeltà nella nella stereofonia anche se abbiamo voluto dare comunque un impatto un impatto moderno un impatto moderno sicuramente sfizioso con sia tanti prodotti interessanti tanti prodotti anche sul vintage ma tanti prodotti sicuramente divertenti faremo funzionare ls 50 wireless due che per esempio anche se hanno l'hdmi quindi gestiscono anche il video abbiamo due subwoofer i kc 62 nuovi sub della della gf in wireless quindi adesso come minimo ogni volta che un neodiofilo entrerà si ucciderà così proprio farà a kiri e abbiamo un bel gira dischi della mobile fidelity dove il mitico fabrizio ha ben pensato di poggiarci un pc con una meccanica cyrus prefono e gel h5 90 e questi sono dei diffusori che a me fanno impazzire che sono le da in audio con tour 60 i ultima versione lui è una vera rock star ormai youtube era affermato ciao emilio bello tra i belli e abbiamo esagerato un istituto ci sto io che so più bello un'istituzione vera e niente siamo in dirittura di arrivo abbiamo anche qui fatto un'esposizione statica scusate ancora la confusione ma è un backstage quindi dar audio heritage dan audio special forti evoc e nuova serie emit come vi dicevo prima c'è pure in portafogli la eltax la ellipson abbiamo altri prodotti egel quindi gli integrati più normali con anche il prefono nuovo prefono che è interessantissimo e eugenio che non gli funziona il lettore usb del televisore però abbiamo la serie q la serie rdcf che sono soddisfazioni grandi soddisfazioni lsx ls 50 accessori qui noi abbiamo dopo i adesso sai che ci sono i novax noi abbiamo in ocav che sono quelli contro i cavi quindi abbiamo portato un po di accessori di cavi perché così anche qui gli audiofili si uccideranno accessoristica della isoacustica anche qui ci sarà molto da da litigare da disquisire abbiamo l'indorf questi anche sono molto interessanti per quanto riguarda anche una gestione di un di amplificatori stereofonici due canali l'indorf è la famosa stanway lindorf quella dei pianoforti che fanno anche elettroniche impianti audio multicanale da cifre fuori di testa fanno una linea economica molto interessante completamente in digitale poi ecco andatevi a vedere i video di fabrizione che sono troppo divertenti e soprattutto troppo interessanti poi abbiamo cyrus abbiamo fatto un po di offerte black friday in corso insomma tante belle cose per stare per stare un pochettino assieme tutto qua abbiamo anche un regalino e devo ringraziare mi perdonerà i gli amici di suono che ci hanno messo in contatto con co boots il servizio di streaming musicale con tre mesi di prova gratuito quindi basta inquadrare il qr code registrarsi e abbiamo tre mesi di prova gratuita poi se avete 76 e mail ci potete andare avanti per quattro anni se no ogni volta sono le giri registrate e pagate però intanto tre mesi io lo sai che sono così video le interviste mi sono difficili sono complesse ne è così è una vitaccia ora ci vediamo tra poco per immagino che vi mancherà poco per finire il setup così facciamo anche una scultura diventiamo anche donne delle pulizie devo devo fare la moquette poi capiamo come posizionare le sedie i diffusori ho fatto io il rodaggio una in faccia all'altro due giorni hanno suonato forte anche lì sarà la felicità dell'audiofilo che vedrà se vedrà delle immagini del genere e niente benissimo grazie alea a dopo a dopo